Da per spedale siamo a Milano Stadion, abbiamo parlato di un progetto molto particolare legato all'e-commerce che è Sono Sicuro, ce lo puoi raccontare? Sono Sicuro, è un progetto iCell che stiamo portando avanti da due anni, è un progetto molto ampio, che in sostanza è una certificazione che andremo a fare ai negozi, certifichiamo la qualità del negozio, ad oggi abbiamo esaminato più di 500 negozi e ne abbiamo certificati solo 300. Cosa intendiamo per certificato? Abbiamo verificato quelle che sono la normativa, abbiamo valutato quelli che sono gli aspetti critici del commercio online, quindi quelle che sono le problematiche essenziali, su queste noi abbiamo redatto un regolamento e un codice etico, quindi normativa più nostro codice etico interno, abbiamo fatto quelli che sono i requisiti essenziali per essere azienda certificata ICE, quindi azienda Sono Sicuro. L'obiettivo qual è? Togliere le preoccupazioni relative alla sicurezza dell'acquisto online, noi vogliamo che l'acquisto online sia un'esperienza assolutamente positiva, quindi ci preoccupiamo di dare la sicurezza, quindi da qui in nome Sono Sicuro, quindi infondere la fiducia al nostro consumatore. Se entra in un negozio Sono Sicuro, sa che qualcuno, uno stato di persone competenti, ha lavorato, ha controllato quel negozio, ha verificato ogni singolo aspetto di quel negozio, ha verificato che questo negozio sia in grado di dare esattamente tutte le sicurezze che la normativa richiede al consumatore e sappiamo anche che questo negozio si è impegnato con il codice etico a fare un commercio di qualità. Grazie.